No, hai un'altra parte del sasso. No, 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 no. Si, questo è un'altra parte del sasso che è il figlio di la Corsiglia. Passa, bravo. Grazie, signor Presidente, a Corsiglia e consiglieri. La prima imprescindibile parte del Consiglio riguarda un piano attivo con un corso di un ottimo corso marciale a un'unità di inizia e non è un po' fuori. Ma per me, la prima imprescindibile parte della fase iniziale, la nostra compresa è una parte del corso di inizia e non è un finanziamento di inizia e non è un po' fuori. Nel corso di un cedimento, la compresa ha, diciamo, ceduto la sua progettazione è un'altra parte di iniziale e non è una parte di iniziale e non è un'altra parte di inizia la comunità del consensoeting. Si predicta la pointell av съ essential, la 감사, non è un problema d'acopera, così come è un'inglese, Govini, così io, c'è配 istit pensando la scena trastetta bancazione del senzoro del senzoro. ci sono un'ultima compagnia di un'aspetto particolare che è notata con l'usore diciamo da parte di queste compagnie di una vita che non c'è l'aspetto particolare di questa prima della costruzione del comparto sostanzialmente secondo me in questa area che è interessata che ci sono come colere come si con l'usore che nonostata che sono stati invitata prima della bocadina poi da la cultura nonostaccata ovale che è stata nel secondo me ci sono a disposizio in questo caso solamente a insolventi si è una cosa alla classica c'è un'usore ogata in questa è stata possibili che mescrati che che ho la congelanza di un'altra volta che stava tagliando l'appoggio dell'autostrompo. Tra l'altro, il comandario è un padre, in questo caso, non c'è nessun po' piccoli, l'obiettivo, a proposito dell'autobiettivo, l'ossata per non aver consumato il progetto, non sono riuscita, però non sono riuscita. Questo progettivo consente di non lasciare i barbiti inutilizzati, rincompartizzati, con la Satole, la Satole, la Satole, la Satole... Quanto costava la Satole? E... ... Sì, adesso... ...quanto c'è un passaggio? A proposito delle indizie culturali, perché c'è questa operativa che ha avuto i finanziamenti e quindi aspirano a poter costruire tutto. Però vuol dire che c'è, su questa cosa, anche questo, che ci sono perciate, ma questa cosa invece è che cosa... Ecco, potete fare qualcosa in più? Per questo grazie. Per questo... ... 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